Ciao a tutti, benvenuti ad Anteprima Cinema. Vi lascio con il trailer di oggi e subito dopo le notizie di cinema. E' strano che uno come lui abbia una figlia così bella. Sembra un angelo. Le belle hanno sempre un brutto destino, dottore. Alla fine tutti scontano la loro pena. I figli invece scontano i peccati dei padri. Dottore, una persona può decidere di suicidarsi per punire un'altra persona. E' possibile? Le donne non perdonano così facilmente, signor procuratore. Ninja Turtles, il live action review, è in produzione con data di uscita il 25 dicembre 2013. I personaggi non saranno più mutanti da un gruppo di adolescenti, ma da una razza aliena. Questo è un dettaglio in più e diverso dai fumetti originali. Le tecniche per i fermi immagini saranno le stesse usate nel film The Rise of the Planet of the Apes, diretto da Jonathan Liebesman e con una sceneggiatura di Josh Applebaum e Andret Niemek. Li guardavate le serie di cartoni animati quando eravate bambini? Qual era il vostro personaggio preferito? Fateci sapere con i vostri commenti e a presto!